Otticamente da 15 anni al servizio della clientela. Controllo della vista computerizzato gratuito. Applicazione di lenti a contatto, montaggio e consegna di occhiali in un'ora. Assistenza e consulenza optometrica. Basta scelta di occhiali da vista e da sole. Venite a trovarci a Terlizzi, in via Giovanni Bovio 16. Seguiteci su Facebook.